Grazie a tutti Svapandolo cambia tutto perché sentite sì la fragola ma sentite il mix di frutta, di crema e di torta che va a creare un liquido veramente perfetto. Questo liquido è veramente perfetto. Grazie a tutti. E lo dico raramente, questo è veramente un liquido perfetto. A mio parere ovviamente questo qua è veramente un liquido perfetto. Lo dico raramente perché raramente trovo un liquido che mi piace a tal punto. Pensate che lo sto svapando, come dico sempre che faccio fatica a svapare un liquido tutto il giorno, questo qua lo sto svapando da settimane. Ok? Settimane. Non mi è ancora stufato. Ogni tanto cambio perché faccio delle prove e quant'altro ma generalmente questo qua è il mio liquido sul tubo che uso tutti i giorni con il tanka. Questo qua è la mia combo di sempre. Quindi io principalmente uso sempre questo. Fragola. In generale altra frutta fresca, crema e torta. La base di torta che sentite alla fine per dare quel tocco di corposità al liquido. Questo qua è un liquido da 10. Punto. Io appena andrò all'epitali, è un po' presto per parlare però siamo a gennaio però comunque. Io di questo qua sicuramente me ne porto a casa una bocce di quello grande perché è veramente spalato. Spoco a dire, quando il liquido è buono è buono. Non saprei veramente a cosa aggiungersi, non sono trovato difetti. È all day, non mi stufa. È molto buono. A seconda di come lo svappate cambia anche il suo sapore e se lo mettete più, se lo spingete di più sente molto la fragola, molto la crema. Se lo spingete di meno sentite più la crema con altri frutti dietro. È rotondo, è perfetto, è lineare, è buono. Punto. È un liquido perfetto. A mio parere è un liquido perfetto, non c'è da dire altro. Dovete provarlo per capire cosa vi voglio dire io. Per me è questo liquido, se vi piacciono i fruttati con la crema. È un liquido già visto e rivisto, ok? Però Shake & Vapor riesce comunque sempre a rivisitare i liquidi già visti e rivisti e a creare fuori dai capolavori. Non so come faccio, no? Io sono innamorato di questa casa perché è veramente, veramente buona. O meglio, fa dei liquidi veramente, veramente buoni. Io vi faccio ancora i miei complimenti perché a mio parere siete una dei pochi marchi di liquidi italiani, parlo di liquidi, non aromi, liquidi italiani, che possono comodamente fare il culo al 90% del mercato che troviamo in Europa, in Italia e in America. A mio parere. Quindi ragazzi, ancora complimenti, io questo liquido veramente lo svapperei a palate. Mi fermo qua perché non ha senso continuare a rimarcare che il liquido è buono. È il punto che se lo spingete non cambia, non si altera. Se andate a spingerlo tanto, tanto calore, il liquido non si va ad alterare, a cambiare sapore, a diventare morto, non si ammazza il liquido. Perché sto svappando su una 0.08 di... dovrebbe essere, aspetta che ce l'ho lì, le tankafragli, se non erro, di quelle di Isaac. Cioè, è una 0.08 e il liquido è perfetto. Ragazzi, complimenti. Io non ho altro a dire, mi invito a lasciare un like, commentare e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo anche di seguirci sulla nostra pagina Instagram. Trovate tutti i link in descrizione, stiamo cercando di crescere anche lì, quindi aiutateci, mi raccomando. Vi ringrazio ancora una volta per essere arrivati fino a questo punto del video. E noi, con l'ultima svappata, ci salutiamo. Ciao ragazzi!